Ciao amici di Fantapaz, siamo qui dopo il derby di Europa League 0-1 e finita per la Roma il derby di andata con il gol di Mancini su calcio d'angolo. Partiamo innanzitutto per analizzare la partita dalle due formazioni, insomma 4-2-3-1 da parte del classico, diciamo da parte del Milan, in cui i rendersi e lo Stucic comunque spesso si sono, l'ho visto lo Stucic tornare molto più spesso indietro, però era comunque lui il vertice alto di questo, di centrocampo, sull'altezza dei trequartisti, ovviamente Leao e Pulisic con GQ davanti. La Roma invece dei rossi qui ha sorpreso molto perché in realtà ha giocato non con il solito 4-3-3, non con il 4-3-2-1, ma in realtà con un 4-2-3-1 se vogliamo perché comunque Di Bala si trova spesso nella zona centrale e Sarau invece è spostato a destra per bloccare soprattutto Teo Hernandez e aiutare Selic con Leao, anche se questa sera in effetti contro Leao non serviva magari tutto questo aiuto perché abbiamo visto un Leao veramente molto spento e Pellegrini da mezzala che comunque in realtà avanzava spesso anche come sul lato sinistro. Diciamo che alla fine non c'è stato questo possesso palla così eccessivo da parte del Milan perché comunque è stato 53-47 quindi abbastanza nella norma, 25 tiri ma spesso alti, spesso fuori o comunque bloccati da parte del Milan, infatti solo 5 in porta e 10 della Roma con 3 soli tiri in porta. Quindi partiamo insomma dalla mossa comunque l'importante e decisiva quella di De Rossi di mettere Sarau a destra appunto perché è riuscito a frenare tanto Teo Hernandez ed è come detto a dare comunque una mano nel fermare e mandare fuori i giri Leao che appunto non era assolutamente il Leao che conosciamo. Molto bene comunque anche Di Bala che spesso partiva anche lui da destra e si accentrava. Devo dire molto bene anche Lukaku che tante volte è riuscito a farsi far fallo e ha comunque fatto una prestazione positiva, alcune sponde, alcuni passaggi anche nel primo tempo ci ricordiamo una palla bloccata al di là dell'azione del calcio d'angolo ma anche un'azione in cui ha preso palla qui bloccato da Daciao e l'ha messa in mezzo, la messa qui dove Di Bala si era spostato in realtà che poi ha lanciato Pellegrini, lì Calabria ha fatto un'ottima chiusura mandandola in calcio d'angolo poco prima appunto del gol. Quindi diciamo è stata una Roma comunque molto compatta devo dire, molto compatta perché abbiamo visto comunque una difesa solida in cui appunto lo stesso Celic spesso comunque si alzava per dare una mano del Sharawi e per comunque dare una mano anche in fase offensiva, un po' meno Spinazzola, di Spinazzola ci ricordiamo questa azione in cui va via Calabria in velocità e poi si accentra tirando comunque, trovando poi una deviazione che finisce poi in calcio d'angolo. Quindi diciamo un Celic leggermente più propositivo rispetto a Spinazzola, però anche Spinazzola ha dato il suo contributo, un Paredes che ovviamente in fase di non possesso, in fase di possesso si scalava tra i due difensori centrali per far partire l'azione, per aiutare nel gigopalla, però tante volte soprattutto nel finale di primo tempo abbiamo visto un Paredes molto indietro proprio a fare quasi da quinto difensore o da terzo centrale anche per dare una mano, però diciamo è stata lieve perché è stata solamente l'ultima parte del primo tempo in cui il Milan ha un po' spinto cercando maggiormente di entrare in aria magari con i cross e chiaramente facendo Paredes appunto faceva quasi il terzo centrale creando comunque densità difensiva e quindi evitando insomma che la palla finisse soprattutto a Giroud. Diciamo nella prima parte, dalla parte Rossonera è stato soprattutto un lost to cheek molto, secondo me molto negativo anche lui, Pulisic male all'inizio, poi piano piano è diventato un po' più propositivo, all'inizio ha perso troppi palloni, poi ha cominciato un po' a carburare ma non è stato un grandissimo Pulisic neanche, neanche lui un po' meglio comunque in generale nel secondo tempo, mentre lost to cheek ha continuato a giocare molto male. Non trovava la posizione probabilmente perché lost to cheek si spostava spesso quasi all'altezza di Reinders, quindi un benasè che si accentrava, si spostava quasi da mezza alla destra, un po' forse per cercare di dare una mano anche su Pellegrini che si trovava in questa zona, forse lo ha, diciamo lo ha, lo ha mandato fuori giro anche questa posizione di Pellegrini che lui voleva cercare più degli altri di bloccare, di intercettare naturalmente in fase di possesso della Roma, mentre Reinders ha spinto molto, è stato praticamente l'unico che ha, anche poi nel secondo tempo è stato l'unico che ha cercato, il primo tiro è stato suo ma poi ne ha fatti altri, altri anche nella ripresa, nel primo tempo stesso e poi nella ripresa, quindi era quasi Reinders che fungeva da trequartista, nel senso che si inseriva spesso con l'off to chic che lasciava in effetti lo spazio e lo andava a prendere Reinders, però in generale appunto come detto sia l'off to chic sia lo stesso, lo stesso benasè non hanno giocato benissimo, anzi l'ingresso poi nel secondo tempo di Adli ha migliorato le cose perché Adli ha comunque cercato di verticalizzare maggiormente, cercato qualche pallone in più, ha anche sfiorato il gol nel secondo tempo in cui c'è stato un tico cross che ha messo in difficoltà comunque Svilar, però in generale è chiaro che i tanti palloni per le aure, è vero la marcatura ma tante volte ha perso proprio dei palloni davvero clamorosi, non da lui, lo stesso Teo Hernandez ha dato pochissimo una mano, forse solo nel finale ma veramente veramente poco, Giroud ha fatto, è stato mal servito tranne appunto nel finale quando poi c'è stata l'azione di Ciucqueze, però in generale ho visto un Milan che ha pasticciato molto, ha fatto tanto possesso, ha fatto comunque possesso palla ma senza mai affondare troppo, come detto spesso appunto la palla veniva affidata a Leao o a Pulisic per cercare la giocata, ma Leao soprattutto naturalmente, ma anche Pulisic non hanno inciso come potevano. Secondo me la chiave generale appunto, oltre alla presenza del Sharawi qui sulla destra, è stata proprio la compattezza della Roma, perché è stata una Roma veramente ben chiusa, che poi appunto comunque sapeva uscire in ripartenza, quello che comunque poi abbiamo visto anche in altre partite della Roma di De Rossi, che comunque non butta mai il pallone, sì in qualche caso si è affidato a Lukaku che veniva quasi a centrocampo a prendere palla, l'ha bloccato spesso da Gabbia o da Ciao e magari faceva comunque partire i compagni di squadra offensivi, che siano Pellegrini, che siano Di Bala, lo stesso Sharawi che tante volte si accentrava. Però appunto è stata una Roma veramente molto compatta secondo me, quindi molto attenta, che ha lasciato veramente pochissimi spazi, pochissimi buchi al Milan, che appunto ha sofferto di queste chiusure continue, di questi pochissimi spazi che non sarebbero riusciti a trovare, se non appunto poi nel finale, quando è entrato Ciucquezza, che si è visto che era molto in palla, come se l'avevamo visto anche nell'ultima giornata di campionato, e ha cercato comunque quel dribbling straordinario per la valla per poi per GV, che ha calciato sulla traversa, quindi devo dire molto positiva la prestazione complessiva della Roma, che appunto ha cercato, ha fatto comunque anche complice magari il vantaggio, non ha affondato, non ha cercato insomma di attaccare in maniera scriteriata, ma appunto ha cercato di attaccare soprattutto in contropiede, ma con attenzione, comunque senza mai sprecare un pallone, in qualche caso appunto affidandosi a Lukaku, in altri casi comunque alla qualità di Dybala, alla velocità di El Sharawi, a qualche accelerazione di El Sharawi, magari un po' più spento, forse Pellegrini, che però appunto ha dato questa mano sia in fase difensiva, qualche appoggio in fase offensiva, però sicuramente devo dire dal punto di vista difensivo sicuramente superiore la partita di Pellegrini rispetto alla parte offensiva in questa giornata, in questa partita. Per il resto direi appunto gli unici due che hanno fatto, hanno avuto comunque un ingresso positivo, sono stati Adli e sicuramente Ciucquezza, sarà molto interessante capire adesso come Pioli cercherà al ritorno di cambiare la situazione. Nella Roma mancherà Cristante, nel Milan mancherà, tornerà Tomori e quindi vedremo che tipo di Tomori probabilmente prenderà il posto o di Gabbia, anche se Gabbia secondo me è stato molto positivo, più di Ciao, quindi non è da scudere, possa essere confermato, mentre al posto di Cristante forse potrebbe avere spazio Bove. Vediamo anche se poi si ripeterà la stessa mossa di vedere un El Sharauri a destra, oppure cambierà qualcosa, oppure tornerà al vecchio modulo, insomma al vecchio schieramento. Però devo dire sicuramente risultato, al di là del fatto che sia venuto sul calcio piazzato, risultato comunque meritato perché la Roma ha sfruttato le sue occasioni e il Milan ha fatto veramente poco, quindi aspettiamo di vedere il ritorno, se vedremo Lea e Pulisic o Lusso Cic stessi più spumeggianti e vedremo anche se magari ci sarà un Dybala ancora più in palla che comunque non ha avuto tantissime occasioni, non le ha sfruttate tantissimo, insomma ha tenuto palla bene in molti casi, ma non è stato il Dybala più incisivo che può essere in tante altre occasioni, quindi anche la Roma sicuramente ha dei margini di miglioramento. Con questo si conclude l'analisi, fatemi sapere naturalmente anche voi nei commenti che tipo di partita avete visto, se siete d'accordo con questa analisi, se avete visto magari qualcosa di diverso, insomma a voi nei commenti e vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!